Ciao a tutti ragazzi di KKLUBE, bentornati nell'episodio pomeridiano delle ranked team 3 vs 3 Quando voi non ci erabbiati abbiamo fatto un'altra ranked... No, non ho ricaduto praticamente, abbiamo fatto un'altra ranked team 3 vs 3 e l'abbiamo vinta Giusto ragazzi? Probabilmente perchè c'è anche troppo forte Ma se la prima non c'è stato neanche Infatti nei commenti mi hanno detto... Ma scusa Cane ma perchè? Scrivi... No no, ti ho detto Cane Cane ma scrivi 3 vs 2, ma scusa non ho capito io Oh io vado bot, vado bot, vado bot, vado contro bantone, cerchi io Dove è una pozzia? Ma che, lì non prendi la pozza eh Ma che io ho preso il TP come un down? Io te l'ho pure detto Davvero? Me l'hai detto? Eh sì Ah, ma è bad Allora fammo dopo giunga Bene Però mi vediamo Olivia Sto recando, sto recando A me, a mia madre, a mia madre che entro sempre Perchè c'è l'eco? Perchè c'è l'eco? Sharky Crisset Fagli eco Crisset Che cazzo sei a fare che facci l'eco? Eh, ho cliccato il pulsante per sbagli Ma Sharky perchè mi parla? È mutato Eh, che speciale Sharky 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 Che fai il campo? Vieni qua Ma che sei handicappato Kree? Eh Ma passare per qua sotto no? Eh beh Sharky che cazzo fai? Kree se! Eh! Ma lo sai che vuol dire dopo giungla? Ah ma tu sei GP Ma Dio Ma sei handicappato? Pensavo Kree Ari Vai qua Eccomi Mi ha handicappato questo Eh no ma ce l'aveva detto comunque Mi ha handicappato Chris oh Porco Pensavo che eri in altra Scorreggia il cervello le scorreggia oh Bel poc Ah Ah che bello Che lo stai a poca a Sharky sta a far capire comanda qua C'è sta la trifle squadra che non mi ricordo No Spermi Si ci sta Oh che f*** Oh che f*** Oh che f*** Sharky Ma che cazzo non c'era io Ma non è vero non ti ha fatto neanche un assist No Mi ha fatto un cazzo Mi ha messo Pressione Ma che cazzo Sei handicappato Da aspetta via bot ce lo dico dopo contro Pantheon Già ho capito via bot Sharky Pantheon è a ranked eh Eh mi conterò un bel po' Pantheon Nooo Ma è un problema Ma è un problema Ho capito che è ranked Però non c'è tanto a tirare una Coco Pantheon Capito Eh ragazzi è così che si farma con GP vedete Poi mettete un Barilo qua nel caso in cui Pantheon non pesce il cazzo Così Barilo Se trada Mi mettete qua dentro Il famoso Barilo Barilo 8 Fammi bacia Io f***onna Fammi Basta Is Ma c'ho già 300 Oh ma qua Ma qua faccio Gragam per second Eh? C'è presente se do le gp per comprare le cose? Eh sì Li faccio per secondo qua C'è non c'ho bisogno della città Fuck Andiamo Vai vai go Let's go Va bene così Spot non c'hai mano adesso No 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 Mi sa che è compito la cosa stasera Stasera ti arriva? Te che è entrato tu madre al distro Prima che ti siamo mutato Voi dai Ti No Lusel Stai in mano e inutile che stai qua Mamma mia signoriii Arrivai dai stop Sto dietro Tu c'è staglia anche top Si 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 Vai 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 su l'ice Vai su l'ice Lei la devi fa' dopo che stacchi le Q Capisci? No! Se lei l'avessi fatta dopo la QG Lei la devi fa' dopo che stacchi l'energy E' bestegna Porco dinci porco Te l'ho detto 8 volte Dio dai come puttana Che cazzo l'ha handicappato L'avessi killata Handicappato Mamma mia Io gli ho detto Dio dai come puttana Dio dai E ora ho fatto la stessa cazzata Che cazzo lo fai l'hai C'è raga Scrivete SOS Cervello di Chris Perchè non lo so Se hai perso mentre Non lo so Io andrei back a sharchi La skin è in salto La skin è in salto Non lo so 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 Basta usare una QG Arrivaci 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 Digglielo Vai Ari Usa l'altra volta la ulti E' tuo E' tuo Shaki Vai vai ancora shaki Quello non c'è flash shaki Attaccalo attaccalo DAI UN NORMAL ATTACK No perchè ero io Ma vedi che c'ha blockhead E dai un cazzo di normal attack Così me la vi Mamma mia Mamma mia signori Mo puoi anche andare via E dai un lontà E dai un lontà E' un lontà Mi viene un Un lontà al disco Se ho contento 8dfps Mamma mia Allai Allai Pensa fai da così E c'è lei No 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 Ma guys C'è lei Digglielo Sono tonto Sono tonto Sono tonto Sono tonto Perché si sente l'ego? Chris ma che cazzo fa? Chris Si sente l'ego Ego Porco Chris si sente l'ego Ma perchè si sente l'ego qualche volta? Non lo so si attiva da solo sta merda Ma che è che si attiva da solo non capisco E' pulsante E' la pulsante Sì Ah ok Non andarci più Guardate mi tocca Vabbè 3rdamo va F*** Da tutti Guardate il cazzo te c***o Quanto io lo vado? Ah i dannetti eh Cri ganky questa top Guarda dove sta Sto a farcà un po' Sì Ma Mokai sta cambiando in jungle Cioè in lane non ci sta più Stavo qui qua Sì Ok I teic e dei tips Mokai non ha detto sharky tanto Tanto coglione Che sta fa? Perchè mi regalo Quanti hanno fatto troppi danni Quanti hanno fatto troppi danni Quanti hanno fatto troppi danni Mi hanno chiamato una zocca Ecco Basta Mokai di merda madonna Lì hanno i top Comun mi ha anche l'ice Gli hanno i top Qui hanno dei torri? No Non sapevamo dove sta l'ice Ecco qua Guarda qui Sto qua ma guy Damn C'è sto sharky C'è sto sharky Dimmi non c'è un man Non c'è un man Che panze ma challenger Questo è loro che sembrano challenger O siete scandalosi voi Quasi sono pure Tu guarda qui sei non riesci a fan gank Perchè Aspette if VOLA Ma ci possiamo andare sul Pantone, 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 sono bloccati, sono bloccati, regà Sì, ho fatto di nuovo la cosa Questo, questo Se non ce la chiamo Sono ultima, poi non c'ho più Viamo l'odore, viamo l'odore, viamo l'odore, viamo l'odore, facci l'ulti, facci l'ulti Eh, si trova l'ulti Vai Voi lo siete scandalosi, eh Speri a parto, l'ulti forse Hai ragione Hai ragione Mamma ragazzi Questi challenge Aiuto qua, aiuto qua, aiuto qua C'è pancia qua qua la vita C'è pancia qua qua Dai! Non me l'ha fatto Che palle C'hai visto che ho fatto questo? Non c'era tornato indietro Che brutto Coglionazzo Che tunnel, fai cazzo Arrivo, dai, dai Faita, faita Faita, faita Faita, faita Facci Ma se riprendi l'altar nostro, come la vedi, green? Facci, sciacchi Facci, va bene Cri, ma se riprendi l'altar nostro C'è uno qua Ciao Ciao Eh ma c'è l'ice, non posso S'arriva la top S'arriva la top Ragazzo Ragazzo Io ragazzo ragazzi Ho la ult, eh Se vi serve Potri Ma qui le cose di gp si fanno subito C'è tipo subito Ce n'ho già due E dai squad Che? Ho 20 FTS quando arrivo in lane e ne ho 9 Perché si carica più roba, si carica Nino Vedete, eh? Beh, bianco troppo Cos'è, non c'è qualcuno Guarda che qui c'è il pisello Non è vero Qua c'è Wow Questa puttana Che pressure Vai Pariodo, pariodo 10-10 Hai visto che mi aspetta sempre qua? Vai ulta che mi stacca dentro STACCO DITO SHERTI E NON LA FARI RIGA ULTA Ma che cazzo stai aspettà? Ma dove va? Ma che stai aspettà? Che regalassi? No, non avevo capito che stava da D Ma che vuoi? Ma che cazzo è andata? Challenge, che ne so Perché mi manca pranzasheak? La battaglia Oddio 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 Pantheon ulti Anganciato, 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 anganciato Anganciato, anganciato Va bene, sui Ah Pantheon eh Cominciamo a prendere un po' di pizzetti Cominciamo Ma chi li hava? Ce sto anch'io, ce sto anch'io Hmm, non so di via lines Eh Via che mi sa anche Pantheon Io ho una L'ho failata Ho l'ho ultima due, un mostro divertivo Qua c'è Rabadon Torna dopo, va, torna dopo Ci penso che io stacco a botta adesso Rabadon che funge da Zonia C'è Rabadon Vieni top, shocky Dove Vieni top, shocky Dove I rarely forget FURGALO, FURGALO Aiuto Asciacchi Ma che puoi fare? Asciacchi, che cazzo hai? Eh flash Ma che c'è? Vene Hai visto? Il lag è reale I'm okay, andate via Amo guy, entra qua I'm okay No, no Facci i dannetti però eh A casa, torna Il bronzo 5 è qui, sta gheriando Diremi, shocky, shocky Aiutami Va bene Mi cuica la Ma vedi? Mi ha fatto un danno assurdo Andiamo, andiamo Andiamo io tu, regalà Un coglionetto Creed gli fa tanki Fate... E' un attimo, dove c'è il vato tank? Aspetta, sto pensando Fate il locket, fate il locket This is so bugged, oh my god In effetti Non l'ho dovrebbe bersagliato con lei Ha capito? Si, fate il locket Così fate amici crisis a tutti E oltretutto Ce l'hai pure un bello scudetto Comunque la 3 bot Manca poco, direi Tandaccia prendesse la 3 bot Vai non sola Eh, maronna mia Maronna, ragazzi Ciao, ma ragazzi Non ti ho visto che sei entrato là Anche poteva La gara è un'altra 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 Le corriente Un'altra 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 Potremmo Non ti ho visto il bot Non ti ho visto il bot Ok, ultrata e più il bot Oh, non hai mai Eh, non hai mai Ma ti ho visto Pusha, pusha, plu dal cazzo di me oh 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 guardala guardala vai facci facci vieni anche te vieni anche te basta basta io ho rifatto io l'automatico fare la e su facciamo un salatore facciamo un salatore facciamo un salatore ho la bot vai 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 ok basta la mia ho calcolato che cazzo hai visto la mia 600 fps 600 yes the god i 100 fps c'era chiesto eeeh 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 via bot via bot via bot che buoni i ragnetti vai pushiamo un bot pushiamo tutto fatto qua occhio occhio entro qua dentro aspetta 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 indicappare dai questo è il nostro ce lo lascio si stanno a far buy i morti eh io prendo prendiamo l'altari loro via qua lo prendi l'altari loro prendi l'altari loro vai shakhi no 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 shakhi vai dai shakhi va shakhi tranquilli e' avanti io sto qua vai vai via vai 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 oh continua continua dai vado a prendere l'altari loro l'interessato penso mi sa che sorrendono comunque no l'altari è nostro pure ma non e' come su code che si fa più veloce quando io ultro ragazzi vedo muove in speed se è entrata nella mia ultima avete capito? tipo una ultima di sivirto per capire se no si muovemo un stovile muove e pusha mod off eh io tra poco c'ho pure l'ie secondo me fa un campo di giungla si faccio due campi e c'ho l'ie ma è l'idra l'ie l'ie e cos'è? ma c'è chi vuoi essere la fa pure il statun si ce l'ho vendo a quest'alline cross che ce l'ho ricallo e tutti c'è un cuore c'è cazzo siamo tutti i bot difendiamo i bot faccio subito faccio subito arrivo 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 resistete resistete te lo sei fatto il logat dello staff agri? si perfetto no tutti i bot ci vuoi andare ci vuoi andare ci vuoi andare qua 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 venite qua dentro qui dentro al mio ultimo qui dentro al mio ultimo perché si luces mamma mia ciao si si faccio faccio mamma mia gp quando io dico venite dentro al mio ultimo vuol dire proprio venite dentro al mio ultimo eh mi ha bloccato Mogai no ti sei fatto bloccata Mogai si diverso vediamo dai trinagli la giungla ho la roba paura quanto la fai? piacere dai via 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 ora prendi la giungla nostra e ora abbiamo due ti ha buono comunque io ho le 5 e mezza ok 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 se vuoi fare un altro si si però ora vieni al bar non ho lo smite però guarda 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 questi cazzi, pusciamo dopo vai voi pusciate pusciate, puscia Sharki, puscia no, entra qua dentro torri torri vai continuo, continuo, continuo non pusciano dei get bobs stiamo, stiamo stiamo, stiamo stiamo a fare cosa piacciamo pure inibito la finiamo proprio vabbè finiamo è morto guarda guarda un po' bot o laghi la ulti di gp vabbè sta bene ma cazzo se ne fotte questo è un gg vedete che Sharki non lagga che succede per un attimo la finiamo prima questo succede ragazzi ci ho preso la schiena che sia Chris che Sharki ma che vogliono voglio vedere i danni guarda i danni non avete fatto un cazzo c'è vediamo il damage taken ovvio ragazzi spero che il video vi sia piaciuto come vi ho detto quando ci saranno questi video o ci sarà alle 2 perchè ho avuto un contrattempo e non ho potuto fare altri video o di solito ci sarà sempre alle 7 di sera come secondo video se vi è piaciuto ragazzi un bell'ex se vi è piaciuto se vi è piaciuto bella